Il Consiglio dei Ministri ieri sera ha approvato la norma che dà il via all'indagine campionaria su 150.000 cittadini per i test sierologici. Domani mattina faremo una richiesta di offerta per chiedere alle imprese italiane ed internazionali di darci il numero massimo di reagenti che ci servono a fare 5 milioni di tamponi che abbiamo già acquisito ai cittadini italiani.